Un light motif che tutti gli allenatori intonano, per fortuna gli allenatori che vanno calmi e che predicano umiltà e concentrazione. Nel caso del Pescara ovviamente assume i contorni di una disperazione perché devono tornare ad essere protagonisti e quindi c'è un obbligo che il Palermo non ha, nel senso che il Palermo ha l'obbligo di mantenimento, cioè il Palermo ha l'obbligo di continuare a giocare bene e di correre come sta facendo con disinvoltura. Mi pare impossibile che il Palermo non ottenga per quello che ha seminato, mentre per quanto riguarda il Pescara è chiaro che è una situazione ultimativa, ma il Palermo ci è abituato perché chi gioca contro il Palermo gioca sempre alla partita della vita. Nella storia del Palermo se preteniamo le prime 29 partite, Iacchini figura addirittura al terzo posto e guarda caso prima di lui non c'è assolutamente lo splendido, magnifico, insuperabile, supereroico, come lo vuoi chiamare, è coloratissimo Palermo di Baldini e Guidolin. È vero che Guidolin sarebbe arrivato alla venticinquesima giornata e nelle prime quattro partite ne vinse solo una e poi però ne perse in tutto due, quindi insomma un grandissimo finale di stagione. Ma per dare il significato di quello che Iacchini ha fatto, però ben più importante è quello che hai puntualizzato tu, cioè la possibilità, la voglia, la meticolosità con cui ha lavorato ed è riuscito a cavare da alcuni giocatori delle doti insospettabili perché Stevanovic è un giocatore completamente cambiato sotto il profilo tattico e Di Bala, non lo so, certo, improvvisamente questo qui riprende a segnare a fare assist e per quanto riguarda Vasquez è un giocatore che, non dimentichiamo, avevamo portato in tribuna perché ci restasse a vita.